Sì, è una scritta, ma qui ragazzi, tremiamo. Davvero una cosa incredibile, scende da una macchina salivata, era a fare la gara su terra, poi mi ha fatto un'altra. E grazie a Oipica, che è qua con me, ha un pezzo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.